I Children Toscani dello sci alpino battezzano la stagione agonistica 2019-2020 sabato 11 e domenica 12 gennaio alla Betone. Sabato sulla pista Zeno 2 disputano uno slalom speciale, trofeo sprint, e domenica sulla stadio da slalom una gara di slalom gigante, trofeo Toscana Neve. Il primo elemento in evidenza è senz'altro il numero di iscritti dello speciale, che rispetto alla media della scorsa stagione è cresciuto del 30% e conta 96 partecipanti. La lista di partenza del gigante è formata da 87 iscritti. Clara Colzi e Giada Simoni, ragazze dell'Academy School Valdiluce, firmano rispettivamente il primo e il terzo posto in entrambe le giornate di gara, separate da Valeria Zalum dello sci club Pistoia nella classifica dello speciale e da Elena Principi, sempre del Pistoia, in quella del gigante. Alberto Landini vince lo speciale e il gigante della categoria ragazzi maschile. Il podio del gigante ragazzi è tutto dello sci club a Betone, con Andrea Bacci che si piazza al secondo posto e Tommaso Fusetti al terzo. Il secondo posto fra i pali stretti è di Lorenzo Martini e il terzo è di Francesco Sarti. Entrambi gli atleti sono iscritti all'Academy School Valdiluce. L'allieva più veloce nello slalom è Linda Amidei, Academy School Valdiluce, seguita dalla compagna di squadra Emma Fontanini, che recupera due posizioni rispetto alla classifica della prima manche. Corinna Sentieri, dello sci club Cerreto Lago, conferma la terza posizione. Alessia Pagli, team top ski, seconda nella prima manche, scivola al quarto posto e con voglia di riscatto conferma la seconda posizione nel gigante di domenica, inserendosi tra Linda Amidei, che stacca ancora al miglior tempo, ed Emma Fontanini, che questa volta si piazza al terzo posto. Diego Bucciardini, portacolori dello sci club Lanciotto, vince lo speciale allievi con oltre 4 secondi di vantaggio su Tommaso Pieri dello sci club Doganaccia. Lorenzo Nannini, compagno di squadra di Pieri, si piazza al terzo posto. Il podio nello speciale è replicato al termine della prima manche di Gigante, ma dopo la seconda solamente Bucciardini e Pieri confermano rispettivamente la prima e la seconda posizione. Nannini si deve accontentare del quinto posto a seguito della rimonta di due atleti dell'Academy School Val di Luce. Tommaso Guidotti guadagna una posizione e si piazza al terzo posto e Gianmarco Rocchi arriva quarto dalla sesta posizione nella prima manche. Nonostante la poca neve, la pista era veramente perfetta, preparata a dovere dallo staff di Gian Piero D'Anti. Lo ringraziamo perché ci dà l'opportunità di fare un'ultima gara in programmazione di un grande impegno, l'Appennino Cup della prossima settimana, che sarà una gara di confronto fra tutti i comitati interappenninici che servirà per mettere al confronto la preparazione dell'Alpecimbra e sarà una manifestazione molto molto importante. Si prevede oltre 500 persone, ragazzi, nella Petone a fare gare. Grazie.